Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo per parlare ancora di componenti delle torri di raffreddamento. Nello specifico oggi parliamo dei pacchi di riempimento delle torri, ovvero di sistemi di riempimento per consentire il raffreddamento dell'acqua nelle torri di raffreddamento. Diciamo che si suddividono i sistemi di riempimento delle torri in due grandi famiglie, riempimenti film e riempimenti splash. La differenza è insita nel nome. I riempimenti film si chiamano così perché creano un film d'acqua lungo le proprie pareti in modo da aumentare la superficie di scambio e favorire lo scambio termico diretto tra l'acqua che scende lungo queste pareti dei pacchi di riempimento e l'aria che sale in controcorrente. I riempimenti splash invece lavorano sul concetto di suddividere il flusso di acqua che viene distribuito dagli ugelli all'interno della torre in tantissime goccioline in modo da aumentare la superficie di scambio diretta tra queste gocce d'acqua e l'aria che sale in controcorrente. In che materiale sono fatti questi pacchi di riempimento? Ormai i pacchi di riempimento che siano splash o siano film sono tipicamente in materiale plastica. Riempimento film può essere in pvc o in polipropilene. Il riempimento splash solitamente sono delle griglie in polipropilene. Potete vedere nelle fotografie che faccio scorrere qualche esempio dei due tipici pacchi di riempimento. Vantaggi e svantaggi delle due soluzioni. Diciamo che il sistema di riempimento film ha un'efficienza decisamente maggiore. Il sistema di riempimento splash ha un'efficienza inferiore quindi a parità di potenzialità termica e a parità di portata di acqua da raffreddare le dimensioni delle torri e conseguenza i costi delle due torri splash o film variano notevolmente. Una torre splash sarà più cara e sarà anche di dimensioni maggiori rispetto a una torre film. Quali sono i vantaggi invece dello splash rispetto al film? Nel caso in cui abbiamo acqua particolarmente sporca che contenga inquinanti, particelle, filamenti, è preferibile utilizzare un riempimento splash perché non si intasa, non si sporca. Mentre un pacco di riempimento film ha la tendenza a sporcarsi, ad intasarsi e quindi necessita di maggiore manutenzione se non addirittura di sostituzioni periodiche per ripristinare l'efficienza della torre di raffreddamento. Diciamo che quando questi lavori di manutenzione hanno intervalli di qualche anno, il tipo di sporcamento è accettabile, ma ci sono dei casi in cui si raffreddano direttamente dei fluidi molto sporchi e a questo punto il pacco di riempimento tende ad intasarsi veramente in pochi giorni o poche settimane e questo tipo di manutenzione non è gestibile, quindi bisogna per forza passare sul torri splash. Interessante questo argomento, vero? Vedremo di approfondirlo se vi interessa.